Ben trovati amici di Telepace, un nuovo appuntamento per la nostra intervista, un argomento che secondo me è proprio calzante con questo periodo forte dell'anno che stiamo vivendo e partirei da questo libro Gesù di Nazareth, una storia vera, un interrogativo, i Vangeli alla prova della scienza, edito da Ares, scritto dal professor Marco Fasol che è qui con noi, grazie Marco di essere qui. Il libro è, dicevo, calzante, perché l'hai scritto? L'ho scritto perché sono convinto che la maggior parte delle persone credenti e tanto più anche di non credenti, sono convinti che Gesù Cristo sia un mito, una leggenda, il passaparola lungo i secoli, si sono inventati miracoli, si sono inventati che è risorto, lui era un uomo come tutti noi e è stato divinizzato progressivamente nella storia. È venuta qui a Verona una docente universitaria di storia, Lucetta Scarafia, la quale ha detto che i due terzi dei suoi studenti universitari di storia credono che fra Gesù Cristo e Giove non ci sia nessuna differenza quanto documentazione, sono entrambi dei miti. Poi ci sono stati anche dei romanzi tipo il thriller, il codice da Vinci, la chiesa ci ha imbrogliato, ha insabbiato la vera storia di Gesù Cristo. Ecco allora io ho sentito l'esigenza di come insegnante di storia, storia e filosofia, ho sentito l'esigenza di spiegare agli studenti, ma di spiegare anche ai credenti che non dobbiamo avere nessun complesso di inferiorità rispetto agli altri. Non siamo dei creduloni, persone che credono in miti o in leggende, ma siamo delle persone che credono nella storia, cioè persone realisti. Il realista è quello che crede nella realtà dei fatti. Quindi Gesù Cristo è vissuto davvero? È vissuto davvero. Ci sono delle prove? Non solo, ma quello che ci raccontano i Vangeli è proprio fedele e ai dati storici. Come riuscire a spiegare questo? La dimostrazione, la spiegazione è piuttosto diciamo complessa. Intanto dobbiamo subito dire che tutti i testi dell'antichità sono stati copiati a mano fino al 1400, invenzione della stampa. Quindi noi li conosciamo attraverso i manoscritti che sono stati copiati lungo i secoli dagli emmanuensi. Allora un testo è tanto più credibile e documentato quanto maggiore è il numero di manoscritti che ci sono rimasti. Per farvi un esempio, non so, di Cesare abbiamo una decina di manoscritti, di Virgilio abbiamo più di cento manoscritti, il record è l'Iade e l'Odissea di cui abbiamo 600 manoscritti. Però ad esempio di Tacito, grande storico, abbiamo un solo manoscritto, uno o due. Invece dei Vangeli abbiamo, testo greco, 5300 manoscritti, 8000 manoscritti latini, 2 o 3000 manoscritti in armeno, in siriaco, in copto, lingue antiche. Quindi il numero ci fa capire che se nessuno ha mai dubitato di Tacito o di Cesare, a maggior ragione nessuno dovrebbe dubitare dei Vangeli. Non solo, ma questi manoscritti sono molte volte molto antichi, cioè abbiamo scritti anche a 50-60 anni di distanza, altri del secondo secolo, del terzo secolo, mentre i manoscritti più antichi, ad esempio l'autore classico che ha, quello più antico è Virgilio, sono 350 anni dopo. Di Platone, di Aristotele, in genere, mille anni tra la stesura dell'originale e il manoscritto più antico. Invece dei Vangeli abbiamo una distanza molto ravvicinata e, fatto forse ancora più importante, riportano tutti lo stesso testo. Cioè gli amanuensi non hanno voluto aggiungere niente, inventare niente. Intanto copiavano ad Alessandria d'Egitto, ad Atene, a Roma, non potevano certo comunicare col telefono, aggiungiamo miracoli, aggiungiamo leggende. E poi loro avevano un grande rispetto, sapevano che quello che scrivevano avrebbe cambiato la vita di milioni di persone, quindi non hanno osato aggiungere niente. Quindi si sfata una certa tradizione che invece vuole che amanuensi e comunque coloro che hanno tradotto o hanno riportato le Sacre Scritture, in modo particolare il Nuovo Testamento e il Vangelo, abbiano aggiunto, abbiano abbellito. Esatto. Pensi che c'è ad esempio Corrado Augas, che è un giornalista apprezzabile nelle sue ricerche, nei suoi documentari, però non è competente sui manoscritti. Lui ha detto che i manoscritti sono stati rifatti, ci sono rifacimenti, manipolazioni lungo i secoli. Questo è assolutamente smentito dalla critica storica, perché invece risulta che gli amanuensi hanno copiato proprio lo stesso testo. Naturalmente ci sono degli errori ortografici, ogni opera umana fa degli errori, è vero, anche io non riesco a scrivere una pagina al computer senza qualche errore, devo rivedere. Però sono errori che non intaccano mai la sostanza, sono errori appunto di copiatura. Nell'edizione critica del Nuovo Testamento, redatta dai più grandi studiosi di filologia in tutto il mondo, sono arrivati a un testo standard che a piedi pagina di ogni pagina riporta le varianti, ecco che ci sono, ma sono delle varianti appunto di carattere che non intaccano mai la sostanza. Ecco, non di sostanza. Quindi dobbiamo stare attenti alla disinformazione, perché se uno mi dice che nei manoscritti ci sono migliaia di errori, dice una cosa vera, perché abbiamo 15 mila manoscritti e quindi evidentemente gli errori sono migliaia. Ma devi aggiungere che abbiamo 15 mila manoscritti e quindi possiamo confrontarli fra di loro e risalire al testo originale. E devi aggiungere che questi errori non intaccano mai la sostanza. Della storia di Gesù di Nazareth si dice che è stata prima scritta la parte finale della vita di Gesù e poi l'inizio. Qual è la cosa più certa? Qual è la parte più sicura dei manoscritti che arriva? Anche questo è un punto molto significativo. Hanno cominciato a scrivere la vita di Gesù partendo da Betlemme, dal Natale? Assolutamente no. La cosa sconvolgente che ha cambiato la storia è stata il fatto che Gesù Cristo è morto, è stato sepolto ed è risorto il terzo giorno, risorto definitivamente. Questo è il nucleo genetico della fede, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. E questo è stato l'evento che ha cambiato la storia. Solo successivamente gli Apostoli sono andati a ricercare quando è nato, la sua infanzia, ma l'evento centrale è dato proprio dal mistero che appunto celebriamo proprio in questi giorni, prossimamente, il mistero proprio della passione, morte e risurrezione, che è quello che ha cambiato la vita dei discepoli. Su questo punto per noi sì, oggi parlare di risurrezione, dire anche noi risorgeremo, sembra quasi un discorso da marziani, da alieni. In realtà dobbiamo fare un ragionamento laico, un ragionamento cioè che non presuppone la fede, ma che deve essere fatto da qualsiasi storico, anche uno su cui dovrebbe essere d'accordo, anche uno storico ateo, uno storico scettico. Partiamo, dobbiamo partire da certezze storiche. Una prima certezza storica è che Gesù Cristo è stato crocefisso ed è morto in croce. Su questo sono d'accordo i quattro Vangeli, sono d'accordo tutti gli altri scritti del Nuovo Testamento. Anche Tacito parla del supplicio a cui è stato condannato Gesù Cristo. Giuseppe Flavio, ebreo, non cristiano, entro il primo secolo, dice che Gesù Cristo appunto è stato crocefisso, condannato a morte. Adesso proviamo a medesimarci nella situazione degli apostoli quando hanno visto il venerdì santo, hanno avuto uno smarrimento teologico e psicologico. Psicologico perché credevano che lui fosse il figlio di Dio, lo vedono flagellato, incoronato di spine, svergognato davanti a tutto il popolo. Smarrimento teologico, non riuscivano più a capire chi fosse Dio. Loro avevano le profezie, le profezie dicevano che il Messia porrà i suoi nemici a sgabello dei suoi piedi. I nemici erano Ponzio Pilato, Erode, Caifa, erano tutti nel loro trono. Quindi si è sgretolata la loro speranza. Adesso proviamo a immaginare, per assurdo, le prove per assurdo si usano anche in matematica, proviamo a immaginare che non sia venuta la risurrezione. Vediamo un'altra certezza storica, quello che succede dopo. Dopo tre giorni, dopo pochi giorni, poche settimane, questi apostoli così smarriti vanno in tutto il mondo, muoiono martiri per dire che quel crocefisso morto, flagellato, umiliato è l'unico vero Dio, è il creatore del cielo e della terra, ha realizzato le profezie. Qua ci troviamo di fronte a un assurdo storico. Dobbiamo allora, ogni storico deve ammettere che tra il venerdì santo e l'annuncio in tutto il mondo, deve essere successo qualcosa di straordinario ed è proprio quello che ci dicono tutti. La risurrezione. La risurrezione. Togli la risurrezione e non capisci niente della storia successiva. Quindi per assurdo, cioè facendo un ragionamento più scientifico o comunque matematico, per l'annullamento, ammetti... Dobbiamo, se cancelliamo la risurrezione, cadiamo in un assurdo. Cioè non riusciamo a capire come un crocefisso, umiliato, flagellato, sia stato proclamato unico vero Dio. Questo è il fatto sconvolgente. Per il quale poi gli apostoli danno la vita. Gli apostoli sono morti martiri, è vero. Loro hanno cambiato la loro vita. Sai, se uno deve decidere della sua vita e ci pensa bene a raccontare qualcosa di falso. E poi c'è anche da aggiungere le profezie. Cioè non riusciamo a capire umanamente come il crocefisso condannato avesse posto i suoi nemici a sgabello dei suoi piedi. Allora, solo il risorto può aver spiegato e deve aver spiegato che lui aveva vinto non con la spada, loro si aspettavano un messia politico, non uccidendo i suoi nemici. Lui ha vinto con il suo amore, con il suo perdono. E questo perdono è la sua vittoria. Noi oggi lo capiamo, dopo duemila anni, capiamo, sì è vero, lui ha vinto, il cristianesimo è diffuso in tutto il mondo e Pilato, Caifa, Erode, i potenti sono stati messi allo sgabello dei suoi piedi. Cioè sono svergognati e la loro memoria è coperta di, come si dice, umiliazione, insomma di sconfitta teologica. Ma allora nessuno poteva capirlo, perché Erode era sul trono. Pilato era al suo potere. E allora evidentemente anche qua dobbiamo ammettere che hanno ricevuto la rivelazione dal risorto, non può che essere stato il risorto, a annunciare, dice guardate che la vera vittoria è la vittoria dell'amore. Ecco, è l'amore che perdona. Anche questa è una grande rivoluzione della storia, lo metto in evidenza nel ultimo capitolo del libro, che fino ad allora l'amore è stato concepito come Eros, amore erotico, quindi un amore possessivo, attratto dalla bellezza, dalla perfezione, che tende a dominare. Il cristiano, il cristianesimo, rivela che il vero amore, ecco non che sia da cancellare l'Eros, però deve essere purificato e corretto attraverso l'amore agapico. L'agape è un amore donativo, in cui tu ti poni al servizio dell'altro, cerchi la felicità dell'altro. Di fatto in tutto il Nuovo Testamento non ricorre mai la parola Eros, e invece si usa sempre la parola Agape, che è proprio questo amore donativo, che è quello che ha cambiato la storia, perché tutte le categorie sociali hanno avuto un cambiamento radicale. Pensiamo alla donna, nell'amore erotico tende a essere dominata, perché è meno forte dal punto di vista fisico. Con l'amore agapico dice, voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e dato la vita per loro. Donativo quindi. Il bambino poi, il bambino veniva, i deformi Aristotele e Platone ammettono che lo Stato può permettere la loro soppressione, invece Gesù Cristo innalza il bambino come proprio un modello etico. Lo schiavo, in tutte le civiltà antiche c'era lo schiavismo. Si può dire addirittura che la maggior parte delle economie antiche erano fondate sul lavoro degli schiavi. Con il cristianesimo si dice, guarda che lo schiavo è un figlio di Dio e quindi lentamente, perché per i primi tre secoli i cristiani sono stati perseguitati, non potevano cambiare le leggi, ma lentamente si è arrivati alla soppressione della schiavitù. Dobbiamo pensare che all'epoca di Gesù Cristo i romani si compiacevano degli spettacoli gladiatori, è vero, c'erano i gladiatori, cioè si godevano vedere questi poveracci che si ammazzavano fra di loro. Traiano si vantava di aver chiamato a Roma 10.000 gladiatori e in tutti gli anfiteatri del mondo, anche qui a Verona con tutta probabilità, in tutti gli anfiteatri d'Europa, ne sono stati recensiti 160, si facevano gli spettacoli gladiatori. Quindi c'erano proprio persone che sacrificavano la loro vita con piacere, in modo spettacolare, le attrattive della gente. E invece dopo Costantino è incominciato ad essere aboliti gli spettacoli gladiatori. E poi anche i malati, gli ospedali sono nati col cristianesimo, perché Gesù Cristo ha detto ero ammalato e siete venuti a visitarmi. È interessante notare, metto in evidenza nel libro, che i greci avevano introdotto il logos nella medicina, cioè la medicina come scienza teoretica. Abbiamo Ippocrate, grande medico, anche i latini Galeno, grande medico, però quando sono venute le epidemie Galeno è scappato, aveva paura del contagio. Non hanno creato gli ospedali, perché nell'amore erotico è vero quando tu sei imperfetto, sei malato, sei fragile, sei scartato. L'eros è attratto dalla perfezione, non dalla imperfezione. Invece gli ospedali sono nati proprio come i cristiani. Il cristianesimo ha insegnato che la sofferenza non è insensata e non è neanche un castigo per delle colpe personali. La sofferenza ha un valore redentivo. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, aveva profetizzato Isaia, e quindi nel malato noi vediamo un altro Cristo. Abbiamo parlato del cuore della nostra fede, in fin dei conti, che è il cuore dei Vangeli. Ci sono i Vangeli sinottici, ci hanno insegnato, e i Vangeli apocrifi. I Vangeli apocrifi sono quelli falsi, ci hanno raccontato, ci hanno insegnato al catechismo. Ma come nascono? Come arrivano a noi? Dobbiamo pensare che i Vangeli sinottici sono stati scritti tutti entro i primi, diciamo, 40-50 anni dalla morte di Gesù Cristo. L'ultimo scritto del Nuo Testamento, probabilmente l'Apocalisse, è stato scritto entro il primo secolo, e quindi sono molto vicini storicamente. Invece i Vangeli apocrifi sono tutti scritti successivamente, e quelli di Nagamadi, di cui parla, ad esempio, il Codice da Vinci, sono del 380, quindi parliamo addirittura del quarto, quinto secolo. E poi ci sono, a dire il vero, altri Vangeli che possono essere anche del secondo secolo, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Pietro, il Vangelo di Giacomo. Sono detti apocrifi, perché apocrifi in greco vuol dire nascosti, cioè Vangeli che fino al 1800, di questi non avevamo dei manoscritti, sono stati scoperti nel 1800, in Egitto generalmente, e riferiscono, ecco come avevi detto, episodi soprattutto dell'infanzia di Gesù, oppure delle rivelazioni che ha fatto Gesù dopo la Ressurrezione. Cosa dire riguardo alla storicità di questi? Allora, intanto bisogna dire che tutti questi Vangeli apocrifi confermano il nucleo genetico, cioè che Gesù Cristo è morto ed è risorto, quindi non è che siano, diciamo, da cancellare. Poi ci danno delle informazioni sull'agnosi, che era una filosofia del secondo secolo, però vengono, diciamo, smentiti nella loro attendibilità per il fatto che, soprattutto il criterio linguistico, non hanno un sottofondo aramaico, mentre i Vangeli sinottici sono stati scritti in greco, però sono stati pensati in aramaico. Pensate che nei Vangeli originali, proprio sinottici, ci sono 26 parole aramaiche. Abba, Amen, Eloi, Eloi, Lama, Sabachtani, Effatà, Rabboni. Sono tutte parole che hanno voluto lasciarci proprio come le pronunciava Gesù Cristo, per farci sentire proprio l'autenticità. Abba, forse la parola più importante, lui chiamava Dio papà, Abba, la prima parola che impara il bambino, dice il Talmud. Imma e Abba, mamma e babbo. Quindi vuol dire che lui aveva la massima confidenza con Dio Padre. Amen ricorre una cinquantina di volte. Amen vuol dire in verità. Noi un po' lo perdiamo nella traduzione perché sentiamo in verità, in verità vi dico, ma la parola Amen è parola ebraica e quindi hanno voluto, era una novità straordinaria, nessuno mai aveva usato in cominciare i suoi discorsi dicendo Amen, Amen. È proprio una novità che è rimasta impressa. Poi ci sono ben 130 parallelismi antitetici, cioè è una tecnica tipica dell'ebraico che non c'è in greco. Una frase perché si imprima maggiormente nella memoria viene ripetuta due volte in modo parallelo, una in forma negativa, l'altra in forma positiva. Ecco, non sono venuto per essere servito ma per servire. Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. I cieli da terra passeranno ma le mie parole non passeranno. Sentite questa tecnica, viene ripetuta 130 volte proprio a indicare la predicazione originaria di Gesù Cristo. Passivi teologici, noi gli ebrei rispettavano il secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano. Allora non osavano mai nominare proprio il nome proprio di Dio perché era considerato quasi come una bestemmia, avevano paura di mancare di rispetto. Gesù Cristo rispetta molto questo comandamento costruendo la frase al passivo in modo che non pronuncia esplicitamente il nome di Dio. Beati coloro che piangono perché non dice Dio li consolerà ma saranno consolati. Beati bussate e non dice Dio vi aprirà, bussate e vi sarà aperto. Quindi beati gli affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati. Cento volte c'è il passivo teologico, indice proprio di predicazione originaria aramaica. Nei Vangeli apocrifi non c'è nessuno di questi aramaismi e quindi questo dimostra che non sono stati scritti da ebrei, che erano tutti gli ascoltatori diretti di Gesù Cristo, sono stati scritti da filosofi in genere neoplatonici, hanno un lessico di fatti neoplatonico, parlano di arconti, di sizige, di camera nuziale, di barbelo, sono tutte terminologie tipiche proprio della gnosi e della filosofia neoplatonica. Poi un altro punto importantissimo è che per un ebreo la storia della salvezza era decisiva e difatti i grandi personaggi della storia biblica sono citati in continuazione. Abramo è citato 30 volte, Mosè è citato quello 34-35 volte, Davide più di 30 volte, Isaia 11-12 volte. Nei Vangeli apocrifi non sono mai citati, nessuna citazione di grandi patriarchi. Questo vuol dire che evidentemente non sono stati scritti da ebrei, per un ebreo la storia della salvezza è il fondamento su cui costruiva la sua vita. Sono stati scritti da filosofi i quali hanno approfittato della situazione, hanno visto che il cristianesimo era la religione che si stava diffondendo e allora hanno messo l'etichetta Vangelo di Tommaso, Vangelo di Pietro per dare autorevolezza al loro discorso. Con questo non intendo, anche nel libro lo sottolineo, non intendo svalutare totalmente i Vangeli apocrifi. Ad esempio, solo dagli apocrifi sappiamo che i genitori di Maria erano Gioacchino e Anna, solo dagli apocrifi sappiamo che c'erano tre re magi e alcuni riportano addirittura anche i nomi. Sono dei fatti che possono essere creduti, hanno una probabilità, però naturalmente non hanno la certezza dei Vangeli sinottici. La cosa bella, secondo me, la ricchezza di questo tuo libro è che racconti i Vangeli, la veridicità dei Vangeli non attraverso la fede, ma attraverso la scienza. Il sottotitolo lo diceva bene, tu ce l'hai illustrato altrettanto chiaramente, forse l'abbiamo capito dalle tue parole ancora di più. In tutta questa tua riflessione sulla storia di Gesù, che a questo punto possiamo dire è vera, quale valore ha la fede? Cioè dove la inseriamo la fede? Io inserirei la fede nella osservazione e nel consenso ai dati storici. Cioè i dati storici, abbiamo visto, ci danno una documentazione, un fondamento. Non sono delle leggende, non sono delle favole a lieto fine. Abbiamo proprio eventi di cui sono stati testimoni appunto gli autori dei Vangeli, hanno cambiato la loro vita, è vero, e addirittura sono morti i martiri per questo. A questo punto noi però rimaniamo liberi. Non è che Dio ti mette all'angolo, con le spalle al muro, tu devi credere. No, noi rimaniamo liberi. Anche i contemporanei di Cristo c'erano quelli che dicevano, fa dei miracoli in nome del demonio, in nome di Belzebù. Quindi noi siamo sempre liberi di pensare, ma ci sono state altre cause, non era vero Dio. Ecco, quindi abbiamo sempre la nostra libertà. La fede è un assenso dato liberamente alla verità conosciuta. Abbiamo conosciuto la verità, adesso dobbiamo mettere in gioco la nostra vita. Non è un'adesione solo intellettuale, è un'adesione della volontà, perché se tu credi in Gesù Cristo devi conformare tutta la tua vita in campo morale, nelle relazioni con gli altri, come vuole Lui. E non è che sia qualcosa di automatico. Il mio libro parla all'intelligenza della persona, cioè io ti do delle documentazioni intellettuali. Dopo io riconosco naturalmente il primato dell'amore, il primato della buona volontà. E questo dipende dalla libertà di ciascuno. Però non puoi amare ciò che non conosci. E quindi io ho cercato nel libro proprio di venire incontro alla premessa della fede. Nel Medioevo parlano di preambula fidei, i preambuli della fede. Ecco, dopo la fede è una scelta morale, è una scelta di virtù, è una virtù, è vero virtù delogale. Quindi non è un'adesione concettuale come io credo al teorema di Pitagora, è invece qualcosa che cambia la mia vita. E qui ci deve essere una scelta libera, personale. Grazie mille Marco, veramente interessante. Lo consiglio, questo libro Gesù di Nazareth è una storia vera, edito da Ares, autore il professor Marco Fasol. Grazie a tutti voi, buon proseguimento con i nostri programmi e alla settimana prossima.